Con il suo San Matteo Pizza Espresso Bar e con gli altri ristoranti aperti a New York è ormai una sorta di ambasciatore di Salerno nella grande mela, sia dal punto di vista gastronomico che turistico e culturale. Stiamo parlando di Ciro Casella, che da otto anni porta avanti la tradizione della pizza salernitana negli Stati Uniti, come ha raccontato al sindaco di Salerno Enzo Napoli e all'assessore alla nona Dario Loffredo, che l'hanno invitato al comune. Nel 2010, infatti, chiamato dal fratello Fabio, lasciò Salerno per New York, avviando un percorso che l'ha portato a diventare uno dei punti di riferimento della ristorazione con clienti del calibro del sindaco De Blasi o del governatore Cuomo. La mia città, ho i miei figli, i miei genitori, tanti amici e poi manco da Salerno a livello di vita, diciamo, ho lasciato Salerno otto anni fa, sono andato via a quarant'anni e appunto non è... io torno sempre con piacere, dovrei tornare di più, però minimo una volta l'anno bisogna venire nella propria città per respirare la propria aria e per stare a casa. Prima di andare in America fu Fabio, insomma tuo fratello, poi nel 2010 ti chiamò? Sì, Fabio è andato via, giovane, ragazzo proprio, non è venuto a Salerno per tanti anni, lui ha fatto tanti sacrifici. Poi nel 2008 ci siamo rivisti a livello... lo sono andato a trovarlo, c'era un progetto insieme e nel 2010 è nato tutto. Però la base principale è stata fa mio fratello Fabio a New York che era un riferimento, se non c'era lui non c'erano i San Matteo, nella vita bisogna essere onesti. I ristoranti che sono, diciamo, una piccola vetrina di Salerno a New York, fra fotografie, calendari, adesso anche i nuovi calendari di Lucido Artista e anche delle pizze che richiamano i quartieri o i personaggi. No, noi abbiamo la pizza, abbiamo il panuzzo di Bartolomei dedicato al Grande Agostino, Poi abbiamo la pizza, l'ex sindaco, adesso governatore De Luca, abbiamo la pizza Vestuti, Arechi, la Cilentà. E si è promesso anche una pizza Vincenzo Napoli, come sarà? Ma io la... vedendo il sindaco la vedrei più semplice, una base di pomodoro San Marzano che prende la nostra terra, un'ottima mozzarella di bufala della provincia di Salerno, di Capaccio, con olio extravergine di OP e basilico. Vedrei una semplice però che riacchiude tutti i nostri prodotti della nostra terra. L'amore per Salerno, per la sua terra e per la salernitana, dicevi in precedenza, quindi diciamo che un altro aereo si potrebbe prendere nei prossimi mesi. Ma stasera stiamo allo stadio, vado con il mio padre, con i miei figli, come sempre quando vado allo stadio e poi oggi penso che già possiamo programmare per giugno, c'è il centenario, speriamo che abbiniamo una promozione per la festa della Salernitana. Ci sono tutti i presupposti, la società c'è, i tifosi ci sono, la squadra c'è, quest'anno lo vedo bene. Ciro Casella è un ragazzo che si è fatto da sé con una grande forza d'animo ed è una grande intelligenza imprenditoriale. È un salernitano convinto, orgoglioso della sua salernitanità e a New York i suoi locali sono frequentati da persone importanti, dal sindaco di New York e da altre persone che illustrano questa sua attività imprenditoriale che porta il nome di Salerno in giro per il mondo e della quale noi siamo orgogliosi. Noi siamo orgogliosi di Ciro che ci ha detto che i suoi parenti, addirittura la madre, è stata anche una dipendente comunale del comune di Salerno per circa 40 anni e tutto questo lo lega ancora di più alla nostra città e fa in modo che lui sia un nostro ambasciatore negli Stati Uniti perché oltre a un prodotto eccezionale che lui riesce a produrre, lo fa con l'anima e col cuore diviene simpatico e le persone che vanno lì si incuriosiscono di Salerno e probabilmente vengono anche qui a vedere dal vivo quello che lui racconta. Chi nasce in Italia è come Ciro e di Salerno è un figlio della sua città nonostante ha fatto fortuna, con umiltà, con lavoro, si ricorda della sua terra per noi è un orgoglio da seguire. È emozionante per me vedere i suoi successi, seguirli da lontano e ogni sera o quasi ci sentiamo con i social e mi dice ma com'è bella la città e come sono quest'anno le luci. C'è questo suo sentimento, questo suo sangue che ribolle per la città di Salerno. dovrebbe essere veramente un principio di sprone di tutti quanti che parlano a volte male della città ad essere orgogliosi. Salerno prima di tutto e grazie a Ciro Casella.